Benvenuti nel nostro canale YouTube. Prima di iniziare a seguire questo super scoop, clicca sulla campanella e iscriviti subito per non perdere le super news. Patto segreto. Intrighi tra fratelli il futuro del colosso mediativo in bilico nel cuore dell'immensa eredità di Silvio Berlusconi. Due figure emergono con una stretta di mano che potrebbe definire il destino di uno degli imperi mediatici più potenti d'Europa. Marina e Pier Silvio Berlusconi, i figli più grandi dell'ex premier italiano, hanno siglato un patto di ferro destinato a gettare un'ombra di incertezza sul futuro di Fininvest, il conglomerato che controlla il 76% dei voti in assemblea. Ma questa non è solo una mera questione di potere, è un racconto che va oltre le transazioni finanziarie, un'epica familiare che svela i dettagli più intimi di un'era che sta per cambiare. Il patto segreto nel fitto silenzio di Villa San Martino, il luogo che ha visto crescere i cinque figli del Magnate, è stato firmato un accordo epocale. Seduti intorno a un tavolo, con la sedia vuota di papà Silvio come un richiamo costante al passato, Marina e Pier Silvio hanno stretto un patto che cambierà il corso della loro storia familiare e imprenditoriale. Un patto di ferro, un impegno totale a condividere le decisioni e, ancor più significativo, l'obbligo di consultarsi prima di esprimere un voto all'assemblea dei soci di Fininvest. L'ascesa al potere. Questo patto, però, è molto più di una formalità. Secondo le fonti, attraverso le loro società personali, H4 e H5, e il possesso della maggioranza delle holding paterne, H1, H2, H3 e H8, Marina e Pier Silvio Berlusconi ora detengono il controllo su oltre il 76% dei voti in assemblea presso Fininvest. Un potere senza precedenti che potrebbe scuotere le fondamenta stesse del colosso mediatico. Ma non è finita qui. Questi due eredi hanno redatto un accordo, un patto segreto destinato a preservare l'unità della famiglia Berlusconi nel tumultuoso mondo degli affari. Come riportato dal Sole 24 ore, questo accordo impone l'obbligo di consultarsi prima di ogni voto, sia in Fininvest che nelle assemblee delle società in cui condividono interessi con i loro tre fratelli, H1, H2, H3 e H8. Un rituale che prevede un incontro cinque giorni prima di ciascuna assemblea, un atto di collaborazione forzata che promette di mantenere la stabilità, ma che potrebbe anche essere sciolto in caso di disaccordo. Il fururo sospeso. Con questa mossa audace, Marina e Pier Silvio Berlusconi tengono il futuro di Fininvest tra le loro mani. Ma mentre il potere è ora nelle loro mani, la domanda che incombe è, quali decisioni prenderanno? Come plasmeranno il destino dell'empireo mediatico italiano che il loro padre ha costruito con tanto impegno? La storia della famiglia Berlusconi è diventata un'epopea contemporanea, una saga che tiene il lettore con il fiato sospeso, in attesa di vedere quale capitolo verrà scritto successivamente. Iscriviti subito, per non perderti nemmeno un passo di questa avventura.